Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, sono CianCiampocheFan E... Sì, ok Scusate, allora Siccome sono arrivato ai 200 iscritti Per onde traguardo Ho deciso di Come dire Fare una raffle Semplice, no? Benissimo, una raffle Sì, perché Cioè, concorsi, direi Non vorrei farne perché Dovete, per esempio, nei concorsi Dovete dare qualcosa, o codici O qualunque cosa Quindi ho deciso di fare una raffle Bene Per raffle sapete cos'è ormai È molto diffusa su Youtube Quindi ho detto Perché non la devo fare anche io? Perché? E quindi ho deciso di farla Sì, anche perché siamo arrivati ai 210 iscritti Quindi grazie mille ragazzi E appunto Ok Adesso Cosa posso dirvi? Ah, le regole E poi passiamo ai premi Allora, le regole sono Estremamente semplici Scrivete Scusate Intanto Vi dovete iscrivere Al mio canale Ovvio Per esempio Sì, vi iscrivete al mio canale Aspettate un attimo che devo aprire questo video Perché non ci vuole niente Per esempio, facciamo finta che questo è il video della raffle Qua iscriviti Premete subito iscriviti E siete iscritti Poi andate a scrivere Nei messaggi Nei commenti Voglio dire Mi sono iscritto e partecipo Una cosa del genere Iscritto Una cosa Vabbè, sapete Una cosa del genere Qualunque cosa Anche ciao No, no, no Scrivete Iscritto, partecipo Così E io vi scriverò appunto su un foglietto Sì A posto E Se volete mettete mi piace Anche se C'è bisogno Basta che vi iscrivete però E appunto scrivete E poi che vi posso dire Appunto la rete scrittina Un fogliettino E Non so quando Poi ve lo dirò Farò il video del Dell'estrazione Come Dove Sì, vabbè Perché parlo così male oggi Scusatemi ragazzi Allora Vi stavo dicendo Come minimo Devono esserci Dieci partecipanti Ok Basta Adesso passiamo ai premi Avete presente questo mio video E faccio vedere tutte le mie carte rare Avete presente? Bene Scordatevelo perché i premi non sono qua Ok Muuu 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 Basta Ok No, i premi sono sul TGC online Ok Eh, sì perché Eh, sì perché Magari farò Una raffle con dei premi Proprio premi Con carte Appena arriverò ai 250 iscritti magari E avrò un po' più di carte E avrò un po' più di carte Eh, però Per la mia prima raffle Ho deciso appunto di fare Questo Premiarvi con delle carte online Che adesso vi farò vedere quali sono appunto Le carte sono di Destini Futuri Next Destinies Allora Allora, allora, allora Eh, intanto ci sarà solo un premio Mi dispiace per il secondo e il terzo Ma appunto come vi dico Come vi ho già detto Anzi Ai 250 iscritti farò Una raffle più sostanziosa Diciamo Che i premi arriveranno anche secondo e terzo posto Quindi non vi preoccupate Non vi preoccupate E basta Allora Mi come primo premio Appunto c'è solo C'è solo il primo premio Che è questo Amungus Vi faccio vedere la carta che vincevi Allora Amungus Raro, eh Poi Dov'è l'altra? Moltre solo Bellissimo Poi, poi dov'è? Simi, si Questo Questo Raro Rishiram Reverse Raro Questo La frase raro Poi, poi Dov'è? No, quando il lux Non mi serve Già Do solo Questo Zekrom Questo Behem Questo Mac Sì E poi Basta Ok Quindi Sono un bel po' di carte Allora Adesso voglio dirvi una cosa Se per esempio Voi non Che so Non siete scritti al TGC online Partecipate allo stesso Vi spiego il perché O vi create un account È il momento buono per crearsi un account Sul TGC online Che è veramente semplicissimo Non si paga niente Quindi semplice Oppure Se vincete per esempio Le date ad un amico Per esempio Voi mi dite Io non ho l'account del TGC online Voglio darle a Tizio Io contatterò Contatterò Tizio E gli darò il premio Ah, il premio Come ve lo darò? In un modo che Allora, perché ancora Non c'è la possibilità di trovare gli amici A quanto pare sul Pokémon TGC online Ma io uso con i miei amici Per sfidarci Per esempio Un metodo semplicissimo Perché l'unico modo per raggiungere un amico È sfidarsi appunto Uso un metodo semplicissimo Ci contattiamo tramite O Skype Oppure Facebook Non penso che non avete Nel Skype Nel Facebook Proprio siete fuori dal mondo Con tutto rispetto Per quelli che non sono iscritti Ehm Ehm Però per esempio Mettiamo questo Poi vi incontro Faccio aggiungere Mico Praticamente Ehm Sendo poi amico Andando in scambi C'è direttamente la possibilità di Di fare appunto lo scambio Dov'è? Ecco C'è una partner Lo scambio con un amico Appunto Ed è un metodo Velocissimo Ehm Voi mi offrirete Che so Un Caterpie Che hanno tutti Perché praticamente Non si può fare Proprio il regalo Però Che so Una carta che avete Una carta comune Comunque Una che non utilizzate Per esempio Io ho questo due Abel comune Che l'ho sette volte Io per esempio Potrei dare questo Vabbè Già sette minuti Wow Ehm Ok Allora Mh Sì Va bene Basta Questo è tutto Se qualcuno Non capisce una cosa Qualcosa I premi Non lo so Se avete dei problemi Delle cose che non capite Chiedetemelo Nei messaggi privati E basta Vi riassumo brevemente Appunto le regole Iscriversi al mio canale E scrivere nei commenti Iscritto partecipo Va bene ragazzi Quindi direi che può bastare Questo è tutto Alla prossima Da ciamciava che fan Ciao a tutti ragazzi Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti